Benvenuto in questo virtual tour. Ti presento un appartamento bilocale arredato nella zona del centro di Boviso Masciago, ingresso su ampio soggiorno con cucina a vista, con ampia vetrata, con vista sul centro cittadino. Dalla zona giorno si ha accesso al disimpegno e al bagno. Bagno cieco ma con luce naturale proveniente dal vetro cemento posto nella parte superiore, ventola di aspirazione, stendi biancheria, doccia e lavatrice inclusa. Spaziosa camera da letto con ampia armadiatura e porta finestra. Box auto incluso nel canone d'affitto. Le qualità principali di questo appartamento sono senz'altro la luminosità, gli spazi interni e soprattutto la posizione centrale che lo rende comodo con tutti i servizi principali e la stazione alla quale si può arrivare addirittura a piedi. Questo bilocale risulta particolarmente ideale per chi sta cercando una soluzione comoda e graziosa in un contesto residenziale curato. Per ricevere maggiori informazioni su questo immobile puoi visitare il sito www.desio.soloaffitti.it. Se invece vuoi ricevere informazioni sulla cultura dell'affitto allora visita il blog www.desioaffittibrianza.com Solo affitti, affittare con sicurezza.